Ciao, bentornato oggi sul canale spettacoli televisivi, con notizie come Francesca Chillemi con un pancino sospetta. Arriva la conferma della gravidanza, paparazzata in spiaggia Francesca Chillemi, attrice e modella originaria della Sicilia, è di nuovo incinta Un pancino sospetto mostrato al mare. Dopo aver vinto Miss Italia nel 2013 ha iniziato con la sua carriera da attrice ma anche prima ha recitato un diverse fiction come Un medico in famiglia 4, Il commissario Montalbano, La bella e la bestia, Squadra antimafia, Braccialetti rossi, Sposami e Carabianieri Ma la fiction che l'ha consacrata e l'ha fatta spopolare è stata che Dio ci aiuti insieme ad Elena Sofia Ricci dove lei interpreta Azzurra A settembre invece la vedremo anche su canale 5 nella serie tv Viola come il mare dove è protagonista insieme a Gianni Amen E dopo i gossip che li volevano vedere insieme la Chillemi è felice insieme al compagno al mare mostra un pancino che ha fatto pensare a molti ad una seconda gravidanza Francesca Chillemi incinta, pancino sospetto al mare.La Chillemi è fidanzata e da anni convive con Stefano Rosso, figlio dell'imprenditore che ha fondato Diesel, marchio di moda I due stanno insieme dal 2014 e nel 2016 hanno avuto anche una bambina, Rania Attualmente i due vivono insieme a New York ma tornano spesso in Italia per lavoro Ora i due sono a mare con la figlia La Chillemi è stata pizzicata con un pancino sospetto che potrebbe far pensare ad una seconda gravidanza In arrivo una sorellina o un fratellino per Rania? Perché no, la coppia è serena e felice nella loro normalità e Francesca è una mamma attenta e premurosa E sia Francesca che Stefano sono completamente innamorati della piccola di casa che ormai ha 6 anni Tra una ripresa e all'altra di Che Dio ci aiuti 7 che andrà in onda nel prossimo 2023 e la vede come prossima protagonista Essendo questa l'ultima serie con suor Angela da protagonista, Francesca Chillemi si è mostrata in bikini sulle spiagge di Fregene Ed è stata notata da Grand Hotel che ha subito notato il pancino Le immagini pubblicate dalla rivista settimanale riprendono l'ex Miss Italia con un leggero pancino che farebbe pensare ad una gravidanza Ma l'attrice non ha confermato quindi per ora si tratta solo di rumors che potrebbe rivelarsi sia vero che falso I due sono molto riservati ed hanno vissuto sempre fuori dai riflettori la loro storia d'amore Quindi se il pancino aumenterà nei prossimi mesi sarà questa la conferma della seconda gravidanza E sono molti i fan che si augurano che la coppia allargerà la famiglia Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video